eccoci eccoci amici del giornale della vela benvenuti anzi bentornati al giornale della coppa è tempo di coppa america di regate preliminari ecco la coppa torna il nostro format di analisi e commento sulle sulle orme del trofeo velico più antico che ci sia si sono appena disputate a villanova delle cosiddette regate preliminari delle regate che non hanno una valenza dal punto di vista del punteggio per diciamo per l'assegnazione della coppa america che si disputerà poi nel 2024 a barcellona ma hanno comunque insomma una valenza sportiva di interesse soprattutto per il pubblico che segue diciamo questo che è il più importante evento della della vela professionale mondiale ci eravamo lasciati con il giornale della coppa il 17 marzo del 2021 con il 7 a 3 di emirates team new zealand su luna rossa prada pirelli quello che oggi è il miglior risultato di un team italiano in coppa america ci ritroviamo oggi dopo una tre giorni di regate che io definirei diciamo da up and down letterale letteralmente perché abbiamo visto diciamo come le condizioni meteo hanno un po' influenzato le regate e come insomma il nuovo format delle regate di flotta che vedremo soltanto diciamo in questa fase delle regate preliminari ha fatto discutere non sarò ovviamente da solo a raccontarvi questa tre giorni di regate preliminari della coppa america ma come ci saranno tanti ospiti il primo che chiamo in studio dalla regia è il vice direttore del giornale della vela eugenio rocco ciao a tutti ciao mauro ciao a tutti quelli che ci seguono e grazie mille sono sono veramente contento di partire con il con il giornale della coppa che aveva avuto un format che aveva avuto un grande successo e sono veramente contento di essere qua ecco poteva andare meglio eh poteva andare meglio potevamo essere qui a parlare eh della grandiosa prestazione di luna rossa però siamo qua dai esatto esatto siamo quasi ricomincia con il giornale della coppa eh la strada per la coppa america ventitré ventiquattro è ufficialmente partita però da queste regate preliminari eh eugenio mh è diciamo la coppa america l'unico eh evento che almeno in italia riesce a portare la vela in televisione avevamo eh sky mediaset nao tv poi vabbè ovviamente c'era anche la eh diretta l'ottima diretta youtube del canale ufficiale dell'america scap che impressione ti ha fatto questo warm up chiamiamolo warm up chiamiamolo antipasto diciamo di coppa america con gli ac 40 ricordiamo che poi ci saranno gli ac 75 diciamo nella coppa america vera e propria l'anno prossima barcelona allora devo dire che a livello di di spettacolo di circo mediatico mi sembra che eh sia abbastanza positiva la cosa perché un po' di movimento c'è stato come dicevi tu eh tutte le tutte le dirette poi quando si parla di coppa america c'è sempre un palco importante quindi questo non può che far bene eh al al nostro sport e la vela in generale è lo spot diciamo eh Villanova e la Geltrù non ci ha regalato un vento pazzesco tra l'altro eh Barcellona potrebbe avere delle condizioni simili quindi bisognerà un po' eh un po' capire però devo dire che eh alla fine io me la sono guardata tutta me la sono guardata con con piacere poi eh se se ti dovessi dire è stata spettacolare non è stata spettacolare secondo me è troppo presto per per parlare anche perché abbiamo avuto tantissimi commenti e i nostri lettori si sono completamente divisi tra eh i i tradizionalisti e diciamo i futuristi fondamentalmente no? Quindi è vero quando faccio una piccola anticipazione poi senza senza fare troppo quando si vedevano queste barche navigare in maniera dislocante eh a me come tanti lettori ci hanno un po' ricordato le le regate ehm le regate degli snipe, dei beccacino, delle regate di star con il prodiere che a volte salzava sulla prua eh per dondolarsi con le sarti però eh devo dire che tutto sommato le regate cioè il vento ha sempre determinato l'esito delle regate e anche quando c'erano i cari vecchi monoscafi se non c'era vento non si regatava no? Sì eh questo eh è ovvio qui diciamo un po' la cosa diventa un po' più eclatante perché diciamo si passa da eh diciamo fasi di volo a venticinque nodi di bolina a fasi di cinque nodi quando le barche dislocano ma abbiamo visto come dicevi tu dei trick da da vecchia vela eh da deriva il 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 prodiere che va a tenere la scottina del fiocco eh diciamo da un'angolazione diversa per modificarne un pochino il punto quando c'era bonaccia insomma delle cose diciamo quasi quasi comiche per il contesto in cui sono avvenute diciamo di di vela ultra tecnologica come quella della Coppa America eh eh allora prima di entrare però nel nel dibattito con gli altri ospiti che tra poco chiameremo chiameremo in puntata io volevo fare Eugenio un po' un piccolo riassunto per i nostri lettori anche per chi magari non è ancora informatissimo su qual è il programma quali sono le dinamiche quali sono i team della prossima di questa Coppa America ventitré ventiquattro quindi chiederei alla regia di mandare una scheda che abbiamo preparato dove facciamo un po' il punto della situazione un grande riassunto di questa edizione della Coppa America che si è aperta a Villanova Un defender, cinque sfidanti e il trofeo velico più antico del mondo La Coppa America è pronta a tornare e lo farà in Europa nelle acque di Barcellona alla fine di agosto 2024. Prima però ci sono le regate preliminari a Villanova in Catalogna, a Jedda in Arabia e ancora a Barcellona. Regate che si correranno con gli AC40, i monotipi volanti con cui si disputeranno anche la Youth, la Women, America's Cup, i due eventi paralleli che sono la grande novità di questa edizione della Coppa. Il tutto in attesa di vedere andare in acqua i nuovi AC75, le barche ufficiali con cui si correrà l'America's Cup vera e propria nel 2024. L'Italia torna a caccia della vecchia brocca con la sesta sfida di Luna Rossa, la settima contando il ritiro anticipato del 2017 e dovrà vedersela con gli sfilanti di American Magic in Eos Britannia, Aling in Red Bull Racing e Orient Express Team Friends. Ne resterà solo uno, quello che si sarà guadagnato il diritto di sfilare dal 12 al 20 ottobre 2024 il Defender Emirates Team New Zealand. E questo era un po' il nostro riassuntone Coppa America 23-24. Faccio una piccola precisazione che nella scheda non era, diciamo, non è stata fatta. In realtà gli AC75 li vedremo anche per l'ultima delle regate preliminari di Barcellona, che è in programma per agosto 2024. Ancora non è ufficiale la data. Mentre, Eugenio, il prossimo appuntamento dove vedremo gli AC40 sarà a Jedda dal 29 novembre al 2 dicembre prossimi. Eugenio, una delle grandi novità, diciamo, di questa Coppa America sono le regate preliminari in questo formato con gli AC40, perché in realtà noi di regate preliminari nelle scorse edizioni della Coppa ne abbiamo già viste, sono state anche in Italia con le regate di Trapani, Napoli, Venezia. Qua c'è la novità che si corrono con una barca differente, diciamo, rispetto a quella con cui si correrà la Coppa vera e propria. Questo, secondo te, cosa comporta e che valore diamo allo spettacolo che abbiamo visto in questi tre giorni? Eh, questa è una bella domanda che in effetti si sono chiesti anche molti nella nostra community. Eh, cosa comporta? Comporta che, secondo me, noi stiamo vedendo ancora delle amichevoli, fondamentalmente. È come guardare una partita di calcio per il campionato, ok? Dove comunque le squadre non sono col loro organico reale, dove si testa, si testa tantissimo. Quindi ricordiamo che, cioè, gli AC40, cioè, non sono barche pantografate degli AC75. Le barche saranno molto diverse, eh, avremo la presenza dei ciclisti, ci saranno equipaggi di otto persone e non di quattro. Insomma, è un'altra vela, è un'altra vela. Quindi non allarmiamoci per i risultati negativi e non gasiamoci troppo per i risultati positivi. D'altronde l'hanno detto gli stessi ragazzi di Luna Rossa, l'ha lasciato intendere Max Sirena, l'ha lasciato intendere Checco Bruni, in una bella intervista che ha rilasciato a Gaia Piccardi, la prima cosa che ha detto è, per fortuna che non si tratta della Coppa America. Ecco, quindi, un po', ecco, cerchiamo di vedere le cose con dare loro il giusto peso. Prenderle nella giusta misura, la giusta misura è assolutamente quella che hai detto tu, quella che è stata esternata anche da Max Sirena in alcune dichiarazioni ai colleghi giornalisti che erano presenti a Vilanova. Sicuramente quello che potrebbe accadere è che chi è andato molto male in queste regate preliminari, faccio un esempio in Eos, potenzialmente con gli AC75 potrebbe benissimo vincere la Coppa America. Questo per farvi capire che non c'è nessun verdetto, queste regate non hanno valore vero di punteggio, hanno però, non so se sei d'accordo su questo, Eugenio, un valore comunque sportivo, perché alla fine ti confronti con gli altri team con cui poi ti giocherai la Coppa, quindi inizia anche un sottile, diciamo, gioco, se vogliamo, psicologico di sfida, di confronto con gli altri team e questo, diciamo, va tenuto a mente. Eh sì, esatto, anche perché è un gioco di forza psicologico. Poi è bello vederli a darmi i pari, anche se, come abbiamo visto e come poi vedremo con gli ospiti dopo, i distacchi ci sono stati, sono stati anche importanti. Io, Mauro, secondo me, io non vorrei rubarvi troppo tempo perché adesso ci sono ospiti ben ben titolati che possono parlare di... Siamo, siamo infatti alla fine della nostra anteprima, abbiamo anticipato alcuni degli argomenti che adesso andremo a, adesso andremo a sviscerare con i nostri ospiti. Eugenio, io intanto ti ringrazio, credo che nel frattempo stiamo per, prima di salutarti, stiamo per arrivare in edicola, giusto? Sì, stiamo per arrivare in edicola, giustamente, ecco, bravo, con il bravo che me l'hai ricordato, con il nuovo numero, il numero di ottobre del giornale della vela, abbiamo, certo, c'è già arrivato qua in anteprima, e soprattutto con un lungo speciale arriva la Coppa a cura, indovina un po' di chi, di Mauro Giuffre. Quindi mi raccomando, correte in edicola a breve, veniteci a trovare al Salone Nautico di Genova, saremo allo stand SC31 in banchina 3, andatevi a vedere la mappa, ora è un po' troppo complicato, però siamo sempre contenti, la nostra redazione è sempre contenta di fare quattro chiacchiere con voi e parlare, perché no, di Coppa America, perché ce n'è da dire comunque. Grazie a tutti, grazie Mauro. Questo è Eugenio Ruocco, direttore del giornale della vela, a questo punto direi che, dico alla nostra regia, che siamo pronti per aprire ufficialmente la prima puntata del giornale della Coppa, 23-24, ed eccoci qui, eccoci qui dopo la nostra... la sigla ufficiale, io a questo punto direi alla regia di dare il benvenuto a tutti i nostri ospiti, così li andiamo a presentare, possiamo farli entrare in trasmissione. Ecco qui, Luca Bassani, Francesco Bertone e Lamberto Cesari. Inizierei da Luca, Luca ciao, benvenuto. Ciao a tutti, ciao a tutti. Luca Bassani è un vecchio amico del giornale della Coppa, dato che sei stato, credo, il primo ospite in assoluto che abbiamo coinvolto quando abbiamo iniziato questa avventura, era credo dicembre 2020, quindi grazie di essere tornato qui. Luca Bassani, fondatore di Wall-E, è uno, insomma, dei protagonisti della nautica contemporanea. Abbiamo poi Francesco Bertone Prezia, Francesco, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, velisti e veliste. Francesco, campione europeo WASP 2022, è fresco campione italiano WASP, campionato italiano che si è concluso ieri, quindi complimenti Francesco, nonché team manager e tattico del CAR 46 Lisa R, che è una barca, insomma, che nelle ultime stagioni ha fatto parlare di sé per quanto riguarda la vela offshore. E abbiamo poi, diamo anche il benvenuto a Lamberto Cesari, ciao Lamberto. Ciao a tutti e a tutti amici del giornale della vela. Velista appassionatissimo, regatante di alto livello, prima come prodiere di Vittorio Bissaro in Formula 18, adesso attivissimo con i Catamarani classe A e anche tu, diciamo, arrivi da poco da una regata abbastanza importante perché sei stato a fare i mondiali open, dei classe A, dove, insomma, hai chiuso decimo, quindi complimenti a te Lamberto. E benvenuti, benvenuti tutti al giornale della Coppa. Allora, io aprirei, aprirei la nostra, diciamo, trasmissione imbeccandovi subito su un grande, su un grande tema. Il meteo è stata una delle discriminanti, una delle grandi discriminanti di queste regate preliminari, di queste tre giorni in regate preliminari. Abbiamo visto Villanova con delle condizioni di ondina molto fastidiosa, è un vento che non ha mai superato i dieci nodi, ma in più delle volte anzi è stato C7-8 o inferiore, quindi condizioni cosiddette di marginal foiling, dove era difficile riuscire a rimanere con costanza sui foil. La prima domanda la giro a Luca Bassani. Luca, per quello che abbiamo visto delle condizioni meteo, pensando già in ottica AC75, se tu fossi uno dei progettisti in questo momento impegnati nel disegno degli AC75, anche se per inciso, lo diciamo, gli AC75 futuri sono già stati progettati e sono in costruzione, però comunque la domanda resta valida. Che strategie avresti adottato e che barche servono per affrontare questo particolare campo di regata catalano? Beh, direi prima di tutto sarei molto arrabbiato, perché si era già visto giù in Nuova Zelanda, che queste barche qui hanno bisogno di venti abbastanza costanti, nel senso che non ci possono essere dei buchi che fanno cadere dei foi, perché veramente la regata perde qualsiasi senso. Io non trovo che l'onda sia praticamente fastidiosa, perché appena volavano l'onda non dava fastidio, era quando proprio erano sulla criticità a volare non volare, che lì l'onda ti poteva far cadere. E quindi essere il progettista sarebbe molto difficile, perché queste non sono barche, cioè non vanno progettate per navigare non volanti, vanno progettate per navigare al meglio quando volano. Quindi i progettisti dovrebbero abbastanza imporre un campo di regata che non ti dia questi buchi di vento e ti faccia cadere, perché sennò quando uno rimane e fa sei nodi e l'altro ne fa trentasei, nessuno si diverte. E questo è un po' un grande tema, perché comunque almeno dai report meteo, dalle statistiche che arrivano il settembre-ottobre, catalano, non è un mese di brezze termiche e potrebbe esserci la costanza di questa ondina lunga piuttosto fastidiosa. Giro la domanda anche a Lamberto. Lamberto, tu sei uno dei, ti definirei un pioniere di alcune classi in Italia, dei CAT soprattutto. Per la tua esperienza, cosa significa regattare in queste condizioni su una barca foil, dato che fra l'altro mi hai detto che al mondiale che hai appena fatto avete avuto insomma delle condizioni non troppo diverse da quelle che si sono viste in acqua a Villanova. Insomma, allora io ho regato con i catamarani ed è una cosa un pochino diversa, è un po' molto più paragonabile a quello che succede con i 6GP, dove esiste tutta una condizione intermedia dove di bolina si navega comunque in maniera accettabile in dislocante e poi si riesce a volare di lasco. Sì, abbiamo avuto anche noi delle condizioni dove magari i primi della flotta vedevi un Darren Bandock con due medaglie olimpiche seduto sulla barca che va in dislocante a 6 nodi come agli AC40 ieri e magari qualcuno da dietro la flotta che viaggia a 20 perché è riuscito a volare con una raffica. Chiaramente come in tutte le barche il meteo è critico e le barche foiling, chi come me o Francesco ci naviga già da un po' ha imparato a conoscerlo, cioè la differenza tra il margine delle condizioni tra volare o non volare rende la regata completamente diversa. Io penso in generale che questi AC40 siano delle barche che sono state progettate con un'idea specifica che sarà poi anche quella di andare a fare un circuito un air driver, di metterci insomma delle barche che siano facili da utilizzare e il fatto che siano facili da utilizzare probabilmente le rende meno versatili sulle condizioni estreme. Voglio immaginare che gli AC75, comunque la scelta di questa location, imporrà tutto il progetto degli AC75 nella direzione di queste condizioni quindi nel momento che la Coppa tutti lavorano a vincere abbiamo delle barche che riusciranno probabilmente a volare prima o saranno più performanti in dislocante. Io penso che non debba creare così uno scandalo questo tipo di barca che in realtà come gli AC45 si era già visto una classe per le serie preliminari che è completamente diversa dalla barca poi utilizzata in Coppa. Secondo me bisogna tenere questo disegno sotto mente nel valutare poi in prospettiva dell'anno prossimo. E quindi aspettiamoci magari anche qualche cilindro che uscirà fuori dal cappello per gli AC75. Passo la palla a Francesco entrando un pochino più nel dettaglio di quello che poi è successo a Villanova soprattutto nella giornata numero due perché il primo giorno è saltato per i temporali che interessavano il campo di regata, vento che saltava da tutti i lati, visibilità ridottissima. Il secondo giorno si è regatato ma insomma abbiamo visto un spettacolo diciamo un po' particolare con regate che sono state un mix tra regate dislocanti e regate foil. Una partenza incriminata tra virgolette, Francesco è stata la prima. Ora tu fai parte del Dry Lapse Team che è diciamo una squadra, un centro di allenamento dedicato alla vela veloce ad Imperia. Immagino che proviate spesso gli schemi di partenza anche con i Wasp. Abbiamo visto nella prima partenza che nessuna praticamente delle barche, forse soltanto American Magic, è riuscita a presentarsi nell'area di prepartenza prima dello zero. Le altre hanno fatto una sorta di touch and go, cioè proprio all'ultimo secondo hanno, sono passati al di là della linea e sono ripartite con Luna Rossa che poi è incappata in quella partenza giudicata inizialmente irregolare e poi rimessa in classifica durante la serata. Ecco Francesco, secondo te cosa è successo e cosa succede in generale quando si deve partire con una barca foil in queste condizioni? Cioè com'è possibile che campionissimi diciamo di questo livello come quelli che ci sono in Coppa America abbiano dato vita a una prima partenza che obiettivamente non ci aspettavamo? Volevo capire un po' qual era il tuo parere e se c'è una ragione per la quale tutti erano sopravvento alla linea. Sì, lì riallacciandomi un po' il discorso che avete fatto, si parla di condizioni marginal, sono quelle condizioni dove diciamo il volo è marginale, volo non volo, volo perché magari ho un po' di pressione, ho un angolo migliore eccetera eccetera e sono quelle condizioni di cui avete parlato e che succede un po' di tutto. Quindi si possono paragonare a una gara di macchina, di Formula 1 sul bagnato, quindi quella gara dove i valori normali vengono un po' scombussolati e succedono imprevisti e anche non legati ai tradizionali valori in campo. In particolare di quella regata io l'ho vista indifferita perché ero impegnato in regata con la diretta che parte quando mancano pochi minuti alla partenza e non so bene le loro regole di dove si devono trovare nei tre o due minuti alla partenza, mentre erano molto chiare, diciamo c'erano proprio la box, l'entrata con quello di sinistra che entra dopo di quella destra, quindi è un po' difficile capire sicuramente la presenza dei boundary nel prepartenza di una regata marginal crea un po' di problemi, perché tu mi chiedi come facciamo noi con qualunque barca, foiling, nelle regate marginal è proprio uno degli obiettivi di volare il prima possibile, cioè io se posso volo ai 5 minuti alla partenza e cerco di non perdere più il volo e capita anche di andare molto lontano dalla partenza, ovviamente sperando di rimanere sui fogli perché sennò poi non si riesce a partire, però stando uno lontano dalle altre barche che ti tolgono quel mezzo nodo che può fare la differenza tra volare e non volare e due limitando le manovre e quindi poi presentandoti sulla partenza. Lì sicuramente già comunque partono con un campo molto ristretto che sicuramente va a influire sulla capacità di rimanere in volo. Il sul perché sono arrivati così tanto da sopra non lo so, sicuramente sarebbe meglio arrivare se non da sotto almeno al traverso perché comunque in quella andatura lì è dove è più facile rimanere in volo perché sfrutti anche l'apparente mentre a discendere il vento dove hai meno apparente quindi sicuramente è l'angolo più difficile da fare se sei proprio risicato a rimanere sui fogli. Beh probabilmente, mi unisco al commento di Francesco, era una prima giornata un po' per tutti quindi insomma immaginiamo che anche i team stiano tarando un pochino il polso la mano su questo format di regate. A questo punto io mi ricollego al commento di Francesco riguardante la regata incriminata della partenza giudicata prima irregolare e poi valida di Luna rossa e chiamo alla nostra regia il primo dei contenuti che è Francesco Bruni che commenta appunto la prima giornata, ancora non sapeva che poi la protesta sarebbe stata vinta da Luna rossa però comunque quello che dice è piuttosto interessante. Quindi andiamo con il primo contenuto. Beh una giornata che sicuramente non ci rende soddisfatti, abbiamo sofferto soprattutto la seconda regata. La prima volendo è stata una buona prova, peccato che ci hanno dato diciamo una squalifica che a mio modo di vedere è un po' ingiusta perché non abbiamo avuto segnalazione in partenza che eravamo partiti fuori per cui se non ce lo segnalano e lo segnalano ad altri è un vantaggio per gli altri e uno svantaggio per noi per cui chiaramente è qualcosa che devono rivedere, c'è forse una protesta in corso che non so come andrà a finire. Però dal punto di vista tecnico sono molto soddisfatto della prima regata e molto meno della seconda. Abbiamo fatto degli errori che analizzeremo però sicuramente non sono condizioni ideali per barche foiling. Però dobbiamo essere freddi e analizzare dove abbiamo sbagliato e imparare. E questo era Checco Bruni e io imbecco subito Luca Bassani con una cosa. Luca, un comitato di Coppa America che sbaglia, cioè nel senso che manca una comunicazione importante come quella diciamo di un OCS, che effetto ti ha fatto? No beh, è un'altra delle cose che riputo inaccettabili. Ma c'è anche stato il problema, mi sembra, cos'era nella terza, quando prima della partenza hanno preso il penalty dei boundaries, ma non c'era la radio che non funzionava, che non diceva che... non ho capito, mi sembra che ci siano ancora dei grossi problemi, forse ci sono solo lì, non so, però mi fa un po' paura un comitato di questo genere. Quindi diciamo ancora un format da rivedere. Luca, invece che impressioni ti hanno fatto gli AC40? Li abbiamo visti all'opera per la prima volta e sono la novità, dato che verranno coinvolti poi delle regate che invece quelle sì avranno grande valore, ovvero le regate della Coppa Giovanile e della Coppa Femminile. Che idea ti sei fatto di queste barche? Qual è stata la prima impressione dopo questi tre giorni? A me sono piaciute molto, perché le ho trovate comunque belle, agili, pure in quelle condizioni. Devo dire da vecchio, perché dopo aver visto queste prime regate mi sento molto più vecchio, perché ovviamente la vela che ho sempre fatto e faccio ancora è molto diversa. Quello che mi impressiona un po' che anche sulla C40 il timonare mi sembra una timonata non di sensibilità. Mi sembra quasi che stiano timonando, cioè guidando un camion. Forse mi sbaglio, però è la sensazione che ho avuto vedendo come muovevano il timone. A parte questo invece mi sono piaciute moltissimo, non c'è dubbio. Sono le Formula 2 del mare, ecco. E il giro ovviamente, l'impressione anche a Francesco Lamberto, era un po' la grande curiosità di questo weekend, era vedere le C40 in azione in un formato fra l'altro originale, perché le regate di flotta nella recente Coppa America, diciamo da quando esiste la Coppa America Foil, non le avevamo ancora viste. E quindi voi che siete abituati a regatare in frotta, vorrei un commento su questo. Soprattutto su un fatto. Io ho notato, ne parlavamo prima con Francesco, che tendenzialmente chi riesce a partire avanti ha una leadership solida. Chi è invece nelle retrovie, con i gas delle altre barche, i rifiuti delle altre barche, e l'impossibilità di fare separazione a causa dei boundaries, fa fatica a poter rimontare. Quindi alla fine non si sono visti, diciamo, tanti sorpassi quanti probabilmente sperava il pubblico di vedere. Lamberto e poi Francesco. Ma a me è piaciuta tantissimo. Obiettivamente ero anche molto curioso, quasi emozionato. Cioè la prima volta che vediamo questa tipologia di imbarcazione con l'arm, diciamo volante sugli armi a regatare in regata di flotta. Ed è la prima volta che vediamo un sacco di dinamiche alle quali magari appunto le barche e i volanti più piccole sono già abituate, ma su scala così grande, con un palcoscenico così grande, così prestigioso. Secondo me sono state regate molto divertenti, dove si sono viste un sacco di cose interessanti, tantissime manovre. Abbiamo visto un'agilità che avevamo già visto con gli AC75, ma che, se ci pensiamo, rimane abbastanza sorprendente la quantità di virate che riuscivano a fare in una bolina. Il tema che tu, Mauro, hai sollevato lo trovo molto interessante, è stata la cosa più caratterizzante di queste barche in generale, cioè tutto il wind shadow, tutti i rifiuti che creano, che chiaramente, dovendo rimanere nei boundaries, creano questo effetto elastico rispetto al primo della flotta, o almeno i primi due riescono magari a spartirsi dei due metà campo, dietro non rimane più un centimetro di... Di aria pulita. Rimane poca aria pulita. Nonostante questo, comunque, abbiamo visto recuperi da quarto a secondo. Chiaramente c'era l'incertezza delle manovre, che anche lì riporta l'abilità dell'equipaggio. La grande sfida, secondo me, che sarebbe bello nel 2023, quasi 2024, aspettarsi, è un lavoro maggiore sulle grafiche. Quello magari me lo sarei aspettato e sarebbe bello, ora dell'anno prossimo, vederlo. Cioè, l'avevano fatto vedere un paio di partenze della scorsa Coppa America, no? Questa simulazione dei rifiuti dietro le barche, ma anche semplicemente le rotazioni e la pressione del vento sul campo di regata, che poi è stata, come qualunque regata, la determinante. Cioè, spesso abbiamo visto, se non mi ricordo che è regata una partenza di Pignosini, anche partita dieci secondi dopo, sulla destra, prima incrociera già davanti. Probabilmente ha preso sia rotazione che pressione. Quella cosa lì, secondo me, sarebbe bello cominciare a vederla graficamente su uno schermo, perché aiuterebbe tantissimo la comunicazione, la spiegazione e anche la popolarità di queste barche e della vela. Eh, giro, ovviamente, l'argomento anche a Francesco. Francesco, con l'occhio del tattico o quale tu sei. Cosa resta in queste regate di flotta di opzioni tattiche da poter prendere se non sei riuscito a fare una partenza pulita, come per esempio è successo purtroppo a Luna Rossa Prada Pirelli in questi tre giorni. Diciamo, non è stata pulitissima, sempre efficace in partenza, come magari ci aveva abituato in altre occasioni. Cosa si fa poi dal punto di vista tattico per poter rientrare o insidiare il primo? Beh, allora, riagganciandomi a quello che dicevi prima al volo sulla classe, ero d'accordo con Luca che la classe, secondo me, è comunque stata molto molto agile. Questi AC40, cioè secondo me, hanno volato in condizioni che nella scorsa Coppa non avrebbero volato. E anzi, quindi secondo me in futuro si potrà vedere magari il processo inverso, c'è un po' più di difficoltà in condizioni marginal, perché? Perché queste barche qui hanno il foil grande, proprio per rendere le legate un po' più facili, mentre in Coppa i team tenderanno a fare foil più piccoli per andare più veloce, che però gli renderanno la vita più difficile nelle manovre e col vento leggero. In questa piccola parentesi, che secondo me però sarà poi il fattore chiave perché contano i foil, come abbiamo visto anche nella scorsa Coppa, poi New Zealand i foil più piccoli, farà fatica in partenza di boline e manovra, però poi se li riesci a gestire poi vai di più. Chiusa questa parentesi, sulla regata è chiaramente partire indietro anche di poco, non permette grandissime opzioni, richiede una grandissima pazienza di virare nei posti giusti, nei pertugi giusti, soffrire un pochino quando c'è da soffrire nei rifiuti, azzeccare le ley line o le virate che porteranno alla ley line successivamente e aspettare una piccola occasione, che può essere un errore dell'avversario o un salto di vento a favore, ben inteso che non ce ne saranno molte. Secondo me Luna Rossa, a vedere le regate dell'ultimo giorno di ieri, ha fatto molto bene questa cosa perché oggettivamente l'ho vista regattare, soprattutto le prime due, l'ultima meno, ma forse avevano un problema di comunicazione, molto molto bene, tranne le partenze. Le partenze le hanno fatte male, non so il motivo, ma fatte le partenze, hanno fatto le regate molto buone andandole a vedere. Nella prima regata sono gli unici che hanno fatto un sorpasso durante la regata, sono passati da quarti a terzi e si è visto e l'hanno preparato durante tutti i giri, pian pianino sono stati vicini, se non sbaglio i francesi, poi sono riusciti a fare il sorpasso. E' questo, poi grandissimi sorpassi, onestamente non sono da aspettarsi, in generale sarebbe così in varie classi. Col boundary sicuramente rende la cosa ancora più difficile, la prima bolina è divertente perché le barche si fanno tantissime virate sopra, sono molto vicine, c'è un combattimento molto ravvicinato, ma si gioca tutto sui metri e non ci sono grandissimi sorpassi. Senza il boundary forse ci sarebbero, però ci sarebbero per motivo strategico, magari una barca va tutta a destra o tutta a sinistra e si potrebbe vedere un sorpasso, però non sarebbero nella stessa inquadratura. E quindi c'è una ragione anche di, ovviamente televisiva, diciamo, di produzione, perché comunque abbiamo visto la produzione, obiettivamente dal mio punto di vista, abbastanza spettacolare, con molti inquadrature, Audi da bordo, la produzione è molto bella e senza dubbio uno dei motivi della presenza dei confini anche televisiva. Ma andiamo a vedere adesso, dato che, insomma, l'abbiamo accennato, l'ultima giornata di regate che è quella che ci ha dato anche un po', penso sarete d'accordo, un po' più di spettacolo perché ci sono state delle condizioni più regolari, abbiamo avuto anche un momento che è arrivato a toccare dieci nodi e si sono viste delle regate molto gradevoli, a parte la finale che poi non si è disputata. Quindi chiederei alla regia di mandare il secondo contributo, andiamo a vedere un po' di ambiente a Villanova e un po' di azione in acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa era un po' di azione dalla tre giorni di Villanova, soprattutto concentrata nell'ultima giornata di regate. Come diceva Francesca, abbiamo visto un po' di virate in faccia, un po' di manovre ravvicinate che senza dubbio, soprattutto sul primo lato di Bolina, hanno reso le cose piuttosto interessanti. Luca Bassani, da un punto di vista sportivo e anche psicologico per l'equipaggio. Che valore hanno queste regate preliminari? Abbiamo sentito Max Sirena in alcune interviste con dei colleghi in Spagna dire senza tanto nascondersi che insomma a Lua Rossa queste regate interessano poco, però perdere a velisti di questo calibro, abituati nella loro carriera a vincere le regate, può mai fare piacere? Max ha un'esperienza enorme quindi sa quello che dice, però secondo me sono regate utili anche queste, tanto è vero che comunque i due, mi sembra i due vincitori, primo e secondo, sbaglio o sono anche primi e secondi nel CGP? Non so. Allora, adesso verifichiamo subito, però sicuramente su American Magic, che ricordiamo ha vinto la tre giorni di Villanova, c'è Tom Slingsby che è abituato a vincere piuttosto spesso nel CGP. Perché ecco, se è vero questo, allora è vero che comunque le regate, soprattutto su mezzi magari che volano più o meno, ma che vanno a quelle velocità, sono sempre utili, insomma più si regata e più si impara. Ogni giorno comunque, anche dopo 30 anni di regate, ogni giorno impari qualcosa di nuovo. Quindi secondo me sono utili, non c'è dubbio. Poi le barche saranno diverse, le barche avranno proprio, queste sono proprio one design, quindi sono barche che vanno, dovrebbero perlomeno andare in modo identico e mi sembra che forse a parte Ineos, però le altre mi sembravano andare veramente tutte uguali. Quindi comunque anche la questione tattica è importante, per cui io non le butterei via così. E, rezzo sempre conto, Luca hai citato Ineos ed è un grande tema perché forse se c'è in questa flotta uno che potremmo definire il più vincente di tutti nella sua carriera potrebbe proprio essere Big Ben Hasley, che si è ritrovato sempre nelle retrovie, eppure è stato uno dei team che ha ricevuto in anticipo, no in anticipo, diciamo, tra i primi a ricevere gli AC40. Che effetto ti ha fatto, Luca, vedere una potenziale corazzata come Ineos Britannia, ancora una volta a rancare. Dico ancora una volta perché le ultime due partecipazioni inglesi, proprio firmate da Ben Hasley, al capo del team, sono state piuttosto deludenti e adesso in queste prime regate preliminari, insomma, il patron Ratcliffe non credo che sarà tanto contento del risultato dell'equipaggio. Beh, a me ha fatto impressione vedere Ben in quella situazione perché, insomma, il valore di Ben Hasley è assoluto. Ricordiamoci a San Francisco cosa aveva fatto nel momento in cui ha preso il comando della barca, no? Ecco, ha fatto il miglior recupero nella storia, credo, di tutti gli sport. Per cui è molto strano, non so, non capisco, non sono abbastanza vicino per capire cosa sia successo. Non è tanto la questione della corazzata, è proprio, cioè, lui è uno di quelli che la corazzata te le rovescia, te le svolta, come era Russell Coates. Quindi, boh, capiremo più in là. E l'episodio a cui si riferisce Luca Bassani è la Coppa America del 2012, quando ci fu la famosa rimonta da 8 a 1 a 9 a 8, dove Ben Hasley inizialmente non era non era a bordo della C-72 di Oracle e poi, da quando, diciamo, tornò nel ruolo di tattico sulla barca americana, diciamo, iniziò una clamorosa rimonta che portò a uno dei risultati più incredibili nella storia della Coppa America. Tornando a Francesco e a Lamberto Cesari, parliamo un attimo dei team che abbiamo visto in acqua a Vilanova, perché ovviamente ci sono un po' di novità, le due novità sono ovviamente Alinghi Red Bull Racing e Oriente Express Team France, che sono i nuovi equipaggi, però anche negli altri ci sono grosse novità a livello di organico, diciamo, proprio degli equipaggi. Chi è, secondo voi, il team che si è rinforzato di più? Considerando che, per esempio, in Lunarossa Prada Pirelli abbiamo avuto l'ingresso, tra gli altri, sono tanti nuovi, diciamo, in Lunarossa Prada Pirelli, però tra gli altri abbiamo avuto l'ingresso di Ruggero Tita, Olimpico Nacra 17, di Vittorio Bissaro, un altro dei grandi leader della classe Nacra fino a poco tempo fa, adesso ha interrotto la sua campagna, e in American Magic abbiamo avuto invece, per esempio, l'ingresso di Tom Slingsby, l'uscita di Dean Barker, in Team New Zealand è entrato Nathan Oteridge, questo solo per citare un po', diciamo, i nomi più famosi del New Entry nei Sailing Team. Chi è, secondo voi, che si è rinforzato di più ed è lo sfidante a questo punto più serio di Team New Zealand? Partiamo da Lamberto e poi Francesco. Tra l'altro, Lamberto, tu alcuni li conosci anche, quindi, insomma. No, certamente. Ma allora, se uno vuole proprio andare a guardare proprio così gli albi d'oro e quello che si sovrappone di più con le regate di ieri, credo che alle prime due posizioni ci fossero tutti i vincitori degli ultimi dieci mondiali Mott, e questo forse vuol dire qualcosa. Sicuramente i due in panchina, diciamo, tra i velisti in panchina più forti, due penso che se li siano presi Team New Zealand e American Magic. Sicuramente Luna Rossa pure, però non li ha schierati in barca, quindi, diciamo, se vuoi guardare chi abbiamo visto in acqua, chi aveva visto in acqua ieri, direi che i due che sono stati a guardare l'ultima Coppa America erano Oteridge e Slingsby, e sicuramente hanno dato un grandissimo impatto. Trovo però che non si può non considerare la perdita di Glenn Ashby dal team di Coppa America di Team New Zealand. Che era stato una delle figure storiche, skipper, fra l'altro, della barca nell'edizione di Bermuda. Esatto, quindi, insomma, se si vuole proprio giocare un po' a questo gioco delle figurine, penso che questi siano stati dei personaggi che ha dei personaggi importanti in traesce dalle imbarcazioni. Giro la domanda anche a Francesco, cambiandola un pochino, e ricollegandomi a quello che ha detto Lamberto, che è un grande tema che affronteremo, diciamo, sul finale di questa puntata. Luna Rossa si è rinnovata, è vero, nell'equipaggio, ma alla fine, insomma, al timone c'erano ancora gli stessi. Cosa possono portare le new entry, Bissarro e Tita, al team italiano, Francesco? Sicuramente possono portare un po' di esperienza, insomma, di guida di barche foiling, di messa a punto, perché penso, presumo, siano i vedisti molto forti anche su quello, e di, appunto, trovare le migliori modalità di velocità per la barca, e quindi far migliorare e dare input anche ai titolari storici di Luna Rossa e probabilmente anche mettergli un po' di pressione. Per rispondere alla domanda, sicuramente, insomma, a livello di mercato, come avevi chiesto di Belisti, senza ombra di dubbio, quello che si è rinforzato di più è American Magic. C'è risposta proprio senza dubbio e, come dice Lamberto, secondo Team New Zealand con Outer Ridge, che è una grossa entrata. E gli altri, al momento, appunto, in cambi non ce ne sono stati. Apriamo, diciamo, il tema Luna Rossa in la fase finale, dato che siamo entrati nell'ultima parte della nostra diretta. Apriamo ufficialmente il tema Luna Rossa Prada-Pirelli e chiedo alla regia di mandare l'ultimo dei nostri contributi, che è ancora Checco Bruni, che alla fine della tre giorni, ovviamente ci mette la faccia davanti ai giornalisti e va a raccontare il suo bilancio di questa prima regata preliminare. Quindi andiamo con l'ultimo contributo. Beh, è una settimana difficile per Luna Rossa, sicuramente è un bilancio non eccezionale, però sapevamo che sarebbe stato difficile avendo meno tempo sulla barca rispetto ad altri team. I due team che hanno fatto bene, sicuramente americani e neozelandesi, sono quelli che hanno speso più tempo sulla C40 e non è un caso che siano loro a fare prima e secondo. Sicuramente condizioni metrologiche molto difficili, il primo giorno saltato per tanta pioggia, il secondo giorno solo due prove in condizioni veramente al limite del regatabile e oggi le prime due prove sono andate discretamente, c'era un bel vento, la terza abbiamo sofferto per diversi problemi, anche tecnici, una radio che non funzionava nel mio caso mi ha messo un po' fuori gioco, insomma un bilancio sicuramente eh non eccellente. E questo è eh Francesco Bruni. Luca come come hai visto che ecco che ha avuto insomma sempre la prontezza a fine giornata di andare a raccontare la sua senza problemi, come lo hai visto e facciamo anche con te un attimo un bilancio di questa prima tre giorni di Luna Rossa Prada Pirelli. Occhio Luca hai il microfono spento. Anche qui eh anche qui direi eh sia che ecco che il suo compagno mi scappa il nome. Ecco Spitil eh voglio dire sono dei valori assoluti eh per cui non io non non vedo cioè ho difficoltà a giudicare adesso quello che è successo in queste prime regate e direi che la dimostrazione di quello che dico è proprio il risultato di Neos. Eh sicuramente che ecco ha detto hanno avuto meno tempo perché intanto stanno preparando anche tutto il resto, gli altri hanno avuto più tempo, probabilmente anche questo si vede. Eh secondo me voglio dire hanno una tale un tale potenziale sia che ecco che Spitil e tutti gli altri e il team che non mi preoccupa quello che è successo eh assolutamente. Quindi non è non è assolutamente preoccupante condivido assoluto in assoluto con te eh eh diciamo che eh era un po' un test per tutti eh e restando sempre con Luca e a proposito dell'equipaggio di Luna Rossa c'è un grande tema legato anche a quelli che in questo momento erano i due velisti in panchina di Luna Rossa eh che sono Vittorio Bizzaro e Ruggero Tita. Ruggero ricordiamo che eh ha come ruolo almeno da quello che emerge diciamo tutti questi mesi di allenamento il suo ruolo sarà quello di timoniere eh mentre vittorio ehm è stato diciamo provato per lo più nel ruolo di trimmer o flight controller eh e sono stati tenuti momentaneamente in panchina. Il grande tema che voglio aprire con te Luca e poi girare ovviamente anche a Lamberto e a Francesco è eh la il conflitto conflitto tra virgolette tra Coppa America e Olimpiadi perché ricordiamo che i due eventi si svolgeranno nel duemilaventiquattro a distanza veramente di pochi giorni l'uno dall'altro. Io credo che dalla chiusura delle Olimpiadi eh che per la vela saranno a Marsiglia all'apertura del la cerimonia ufficiale della Coppa America ci siano appena dieci giorni. E Ruggero Tita eh è coinvolto a tutti gli effetti nella campagna olimpica in Nacra diciassette dove se sarà lui l'equipaggio diciamo selezionato insieme a Caterina Banti dovrà andare a difendere l'oro eh a Marsiglia. Come si possono conciliare? Tu che ne insomma hai visto tanti velisti e fa provare a fare diciamo sia carriera olimpica che carriera professionale anche in Coppa America. Si possono conciliare questi due eventi? Allora eh da un punto di vista fisico non vedo problemi eh nel senso che bastano pochi giorni direi per recuperare fisicamente. Da un punto di vista mentale invece può essere più difficile perché comunque la concentrazione e la tensione eh che devi mettere in regate così importanti veramente ti asciugano il cervello. Quindi questo potrebbe essere il il problema maggiore passando da un'olimpiade ad una Coppa America. Ecco io lo vedo proprio a livello mentale. E allora eh io intanto volevo brevemente prima di girare la la parola Lamberto sullo stesso tema ricordiamo un secondo la classifica non so se l'abbiamo fatto ricordiamo un secondo la classifica di queste tre regate di Villanova mi stava sfuggendo di mente abbiamo detto che American Magic ha vinto con merito diciamo questa prima regata preliminare secondo posto per Team New Zealand eh terzo posto per un sorprendente Oriente Express in France e quarto posto per l'Una Rossa quinto posto di Alperalinghi Red Bull Racing e ultimo posto per i Neos Britannia. Eh dopo questa breve parentesi torniamo con Lamberto sullo stesso tema Olimpiadi Coppa America tu sei un grande amico di Vittorio Bissaro con cui hai regatato tanto Vittorio ha annunciato la scorsa settimana il ritiro dalla campagna olimpica NACRA 17 lui che è stato uno dei grandissimi protagonisti di questa classe un vero pioniere NACRA 17 in Italia prima con Silvia Sicuri poi con Manuel Frascari un mondiale vinto un'altra medaglia mondiale eh medaglie europee tappe di Coppa del Mondo vinte parliamo di un belista diciamo di livello assoluto eppure la scorsa settimana ha annunciato che insomma non riusciva a conciliare due programmi ha fatto una scelta ehm come se l'hai sentito come l'hai sentito Vittorio e cosa ne pensi tu di questo grande tema del calendario purtroppo piuttosto severo sui due eventi? Ma eh come insomma penso che abbiate letto tutti Vittorio è stato molto trasparente nella sua comunicazione quindi penso che non ci sia tanto da aggiungere e credo che sia una cosa che era insomma maturata col tempo per tante ragioni non ultima quella personale familiare eh chiaramente sono due impegni che insomma sono poche sono pochi i gueristi al mondo che hanno avuto il privilegio di poter combinare queste due cose eh e chi lo ha fatto fino in fondo lo ha fatto con un calendario molto più favorevole di questo e comunque non riuscendo nel suo obiettivo sto parlando a Berling e Duke che hanno avuto due mesi di tempo ma due mesi e mezzo di tempo finita la scorsa Coppa America per poter preparare l'Olimpiade e comunque non sono non hanno centrato l'obiettivo dell'oro stiamo parlando veramente di due impegni che di per sé sono totalizzanti è bellissimo che che ci che questi atleti abbiano questa opportunità credo che diciamo che la differenza forse tra le due è che dedicandosi alla Coppa America diciamo l'impegno in Coppa America in qualche modo fare la campagna diciamo concentrarsi al cento per cento su una medaglia può presupporre un impegno in qualche modo in un team di Coppa America e non il contrario cioè soprattutto con questo calendario quindi io penso che insomma che Ruggero abbia dimostrato con l'ultimo mondiale eh quale si Ruggero Caterina abbiano dimostrato con l'ultimo mondiale cosa sia il loro obiettivo questo non impedisce a Ruggero di poter avere un ruolo all'interno del team e di essere importante all'interno del team ecco girando l'argomento a Francesco però a questo punto ci possiamo interrogare anche sul ruolo che può avere un oro olimpico come Ruggero Tita all'interno di una rossa perché passare dal timone del Nacra in una regata olimpica se sarà se sarà lui diciamo con Caterina Banti i selezionati ma insomma è possibile che ciò accadrà passare dal timone del Nacra alle Olimpiadi quindi si presuppone con gli ultimi due mesi di allenamento dedicati soltanto al Nacra secondo te è possibile poi vedere Tita anche al timone della C75 poco dopo le Olimpiadi dopo aver fatto presumibilmente gli ultimi mesi soltanto dedicati al Nacra 17 Francesco tu fra l'altro hai fatto anche classi olimpiche in 470 quindi insomma non sei diciamo è strano all'argomento classi olimpiche no secondo me i timonieri titolari saranno Bruni e Spiti abbastanza sicuramente e come dicevo ci può essere un grosso input nel nella messa a punto nel nell'allenamento nel mettere la pressione però considerando anche questo questo impegno olimpico i titolari secondo me saranno loro già forse un po più probabile magari un ingresso di Bissaro come flight controller perché appunto avrà più tempo per dedicarsi ed è anche un un ruolo nella barca dove c'è meno forse meno concorrenza sicuramente resto con te si si vai Lamberto dico io concordo con Francesco e penso che la scelta della calendarizzazione della Coppa probabilmente è stata fatta anche per cercare di svantaggiare il team di Luna Rossa che chiaramente aveva il più talentuoso vivaio di atleti olimpici attivi quindi sicuramente nella calendarizzazione c'è stata una strategia anche guardando ai team avversari e questo è uno spunto molto interessante e alza la mano anche Luca quindi suppongo che voglia intervenire sullo stesso argomento sui bisticci forse del calendario no un brevissimo commento senza togliere niente a nessuno però dobbiamo ricordarci che da quando esiste la Coppa America il vincitore ha sempre vinto perché aveva una barca più veloce anche nella famosa 2012 a San Francisco Ben Hensley ha fatto il suo lavoro ma nella sostanza sono riusciti a far volare il catamarano mentre prima delle prime regate non lo riuscivano a far volare da quel momento in poi loro volavano di più camminavano più forte e hanno fatto quel recupero pazzesco quindi ripeto non voglio togliere valore a nessuno ma alla fin fine è la barca più veloce che vince sempre la Coppa America e questa è una grande verità storica perché da che ho memoria insomma non ha mai vinto la barca più lenta e lo abbiamo anche visto purtroppo a spese di una rossa Prada Pirelli all'ultima Coppa nonostante una campagna di altissimo livello nonostante un equipaggio che ha dimostrato che potesse giocare alla pari alla fine il mezzo venezuelandesi era superiore ed è finita 7 a 3 questo sarà ovviamente un argomento anche che affronteremo nei prossimi mesi nei prossimi appuntamenti del giornale della Coppa perché entreremo bene dentro il focus sugli AC 75 che vedremo in acqua nei prossimi mesi quando inizieranno i vari. Allora io prima di salutare tutti i nostri ospiti e ringraziarli volevo mandare qualche commento del pubblico inizierei da un commento tecnico per Francesco un commento del nostro amico Mario Di Stefano che ci scrive ho notato la randa che viene regolata con continui movimenti bruschi quasi violenti soprattutto sul lato di Poppa e nonostante la pacaria Totuchu in spregge a quanto si è imparato a fare sulle barche dislocanti c'è una spiegazione lascio ovviamente la parola a Francesco che insomma avrà magari un'idea in proposito sicuramente è stata una cosa che si nota molto è una delle delle inquadrature più comuni ed è sicuramente anche con queste barche One Design una insomma sulle vele una delle poche aree dove si può lavorare di più e fare la differenza perché per il resto i parametri sono molto molto simili molto bloccati e delle vele sicuramente la randa è di gran lunga la più importante in particolare in condizioni marginal come di questo weekend allora di come inquadrature si vedono movimenti molto bruschi perché si vede la bugna che muove però poi se poi andiamo a vedere la geometria totale della randa e diciamo quanto è stato cambiato l'angolo di incidenza non sono non sono enormi perché diciamo comunque il carrello che lavora che lavora molto per me per quello che posso dire io ma che non non sono non ho mai navigato sugli AC40 di bolina è comprensibile perché la barca diciamo deve mantenere una direzione molto stabile un angolo di foil molto stabile e quindi poi tutto diciamo sui cambi di vento si bisogna lavorare con la randa in andatura di poppa mi sarei aspettato un pochino meno lavoro perché diciamo grosse lascate fanno perdere un po di potenza e si potrebbe lavorare un poco più col timone diciamo modificando un po gli angoli però lavorano abbastanza quindi magari questa classe in particolare in queste condizioni richiede richiede quello perché comunque non dimentichiamo che c'era 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 un po di onda e quindi secondo me forse era l'onda il motivo principale per cui si è visto quello in attesa di rivederli con meno onda vedere se il movimento del carrello sarà così grande come abbiamo visto questo weekend e questa era una delle domande più interessanti che ci sono arrivate dal pubblico siete veramente tanti tantissimi commenti e allora siamo in chiusura io ringrazio Luca Bassani Francesco Bertone Lamberto Cesari per averci fatto compagnia in quest'ora questa prima puntata del giornale della coppa duemilaventitré duemilaventiquattro grazie ragazzi grazie per avere partecipato e speriamo assolutamente di vedervi anche insomma nelle prossime puntate a partire anche da Jedda che sarà la prossima regata preliminare quindi grazie veramente ciao Luca ciao Lamberto ciao Francesco rimanete in linea che poi eccoci qua amici siamo alla fine di questa prima puntata del giornale della coppa vi ringraziamo perché siete stati veramente tanti io vi ricordo innanzitutto che questa puntata rimarrà visibile sul nostro canale youtube quindi la potrete vedere tutte le volte che volete la potrete condividere è presente anche sui nostri social la rinancieremo sul nostro sito web noi torneremo ovviamente anche con il prossimo appuntamento delle regate preliminari che è previsto dal 29 novembre al 2 dicembre in quel di Jedda Arabia Saudita ancora con gli AC 40 e vi faremo sapere insomma un po' quando andremo in onda ma state certi che che torneremo torneremo ancora a commentare la coppa america mi aggancio a un commento che avevo letto prima di qualcuno che ci chiedeva ma in questa trasmissione rivediamo le regate o parliamo solo in questa trasmissione non possiamo rivedere le regate però di ragione di diritti qui facciamo un commento con degli ospiti diciamo qualificati esperti e andremo a rivedere come abbiamo visto alcune alcune interviste alcuni highlights dei momenti chiave dell'azione che si svolge in acqua questo era il giornale della coppa siamo assolutamente anche un po in ritardo e quindi è tempo di chiudere io che ringrazio io sono Mauro Giuffre giornale della coppa giornale della vela è il momento della sigla finale ci vediamo a Jedda Grazie a tutti